Si ritrae Algeria Jet, stacco della macchina, è veloce Bucefalo Palla Ferma che ha all'esterno Banteng Jet, l'errore la squalifica per Emes in Caffa e Foldemornal, in vantaggio Banteng Jet nei confronti di Bucefalo Palla Ferma, parcheggia terzo dall'esterno Bixio che lascia più indietro Aiello Jet, avanti a Barracuda Gare, in fuori scoperto Zardangal, in terza corsia Bugea Pax punta in avanti Bixio dopo un mezzo giro che va a chiedere strada Banteng Jet a ottenerla, 29,9 i 400 metri iniziali, in realtà ottenerla non in maniera semplice, quell'altro vorrebbe mandare, Bixio ci impiega un po', arriva la curva e la figura di Banteng Jet è ancora a sinistra di Bixio che è costretto all'esterno, nonostante 600 iniziali in 43, il gruppo è sgranato con Aura in seconda pariglia di fuori, in schiena Bugea Pax davanti alle tribune, al passaggio in vantaggio Banteng Jet con Bixio a largo, si scosta dai birilli. Al completamento del primo chilometro anche Aiello Jet, il giro di corsa in 1'14,2 pariglie molto allungate con in vantaggio sempre Banteng Jet, a destra Bixio lungo la corda, Bucefalo Palferm, poi Barracuda Gardi, dentro anche Zio Sauro Jet, il treno esterno è formato da Aiello Jet, Bugea Pax e Aura che si affaccia in terza corsia, aggira Bugea Pax mentre Aiello Jet si protende sulla coppia di testa dal pausino e terretto opposta in 36 con Aiello Jet che va a lato di Banteng Jet e Bixio, cerca l'aggancio anche Aura, di dentro rimane invece Bucefalo Palfermo al pari di Zio Sauro Jet, in mezzo alla pista anche Bel Giacomino Park pedinato da Algeria Jet, di dentro va Vireo Jet, ingresso dell'addirittura arrivo con in vantaggio ancora Banteng Jet nei confronti di Bixio così come sin dall'inizio si iniscono la lotta però anche Aiello Jet e Aura centropista, Bixio che è passato nel tratto conclusivo in seguito da Aura, Bixio che si difende da Aura nel tratto conclusivo, poi Zio Sauro Jet che sgabbia ma sul pausino si è concretato Gaetano Di Nardo per Nunzio Squeglia, allenatore e guidatore del 5 anni che passa su Banteng Jet dopo 2000 metri di lotta e sa trovare i motivi giusti per tenere a bada il finale di Zio Sauro Jet in fine secondo su Aura